L'unico livello fino ad ora che non abbiamo preso al 100% è quello lì che andava in avanti da solo Alipic E' l'unico livello che ad ora abbiamo fatto male Sempre più vicini alla meta finale Con il tramonto che piano piano sta arrivando E certo come no Dai Aia Dai 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 colpisci Mi dispiace per te Questo c'ha un sacco di vita purtroppo Questo c'ha un sacco di vita Eh certo Eh certo Mi so scemo Ecco fatto Dai 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 Ancora uno o due colpi Due colpi Dai, dai, dai L'ultimo, l'ultimo Aia Mi sono fatto prendere Dall'animazione Ma non mi ha colpito Ormai ci siamo La caverna Capu Questa è la scena finale Dove gli dà la foto a Nani, giusto? Cioè, la parte finale del film Cavolo, devo proprio rivederlo Devo rivederli tutti i film Se me lo facevano nel tramonto Sta scena era perfetta Cioè, proprio Finale di Hulk quando se ne va Cos'è? Ah, delle... Ok Certo Come no? Provaci ad avvicinare Provaci, provaci Allora, tu esplodi Grazie Mi avete detto che se faccio L'attacco rotolata Dicevo Mi avete detto che se faccio L'attacco rotolata Io posso andare Persino Sull'acqua Mi pare Un po' troppo Overpower Come cosa Però Mi fido del vostro giudizio Ecco, fatto Dai Esplodi Puff Puff Devo dire che effettivamente Tipo Questo livello Non me lo ricordavo Non me lo ricordavo per niente Vai, 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 vai Vai Preso Perfetto Così non ci ha neanche sparato in faccia Altri Aia Asci Uff Questo è stato Un colpo un po' stupido Ma perché Non ho controllato La profondità Non mi sembra che ci siano oggetti Sopra queste Casse che stiamo facendo esplodere Ecco, fatto Lo sapevo che c'era sicuramente Un oggetto di cura Invece qui Ma sai che ti dico Io Ecco Guarda Lo sapevo che c'era qualcosa Che mi avrebbe fermato E lo sapevo che eri Lo sapevo Preso il pieno Bastardo Mamma mia Quelle maschere Dichi quanto mi stanno Antipatiche Vieni qui Preso In realtà Non c'era nessun motivo Di usarlo L'ho fatto un po' Anche per utilizzarlo Perché se no Quell'abilità poi Non la usiamo mai Ecco, fatto Infatti siamo Al 90% Immortali Quando facciamo sta roba Ecco esatto Solo quando Siamo proprio sulla linea di tiro Di uno dei loro attacchi Ci prendono Esatto Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Allora Io non volevo una vita Avrei preferito Va bene Avrei preferito totalmente Avere un Come si chiama Un oggetto di cura Vieni qua Vieni qua Vieni qua Preso Livello completato PAM 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua